Bene, siamo qui in località San Basilio al famigerato Casino del Duca, uno dei luoghi più misteriosi e inquietanti in tutta Italia, ritenuto un luogo infestato. Oggi noi ci addentreremo in questa struttura per andare a verificare la presenza o meno di fenomeni paranormali. Sono qui in presenza dei miei compagni, Raffaele e Luigi. Ecco, noi ci stiamo abiccimando. Stiamo per entrare in questa struttura, la strada è ricca di Cozzemile, notiamo un po' il cartello, la lontra da pisce, aria video sorvegliata, è proprio da prima. Questa è la chiesetta che ci aspettavano dall'esplosione della scrittura. La chiesetta che ci sottile e non ci sottile e non ci sottile. No, se sarebbero sottile. Mi c'è stato fatto qualche tipo di fiducia. Sottile e giusto. E' lei è stato fatto qualche tipo di fiducia. No, ma tu, no? Sottile e giusto. Questa è la chiesetta. Questi mardi, se non ci sono venuti. Sottile e giusto. Questa è la chiesetta. E' un'altra cosa? si può scendere ma non si sa sotterranei io sono l'espresso si può scendere ma non si sa sotterranei si può scendere ma non si sa si può scendere ma non si sa si può scendere ma non si sa ma non si sa ma non si sa ma non si sa ma non si sa